Inizia l'estate, riparte la programmazione, tutti i lunedì alla Palla di Pomodoro per la musica da ballo, un'iniziativa che richiama molte, molte persone. Devo dire che appunto anche quest'anno Castellina Pasi, Elena Camarrono, una grandissima orchestra, oppure Roberta Cappelletti, proprio la signora dell'iscio per eccellenza italiana, e anche delle eccellenze di gruppi di Pesaro come l'Orchestra di Palazzi, l'Orchestra Balla Onda e comunque tante altre, Fabrizio Guidi, eccetera, saranno presenti appunto alla Palla di Pomodoro tutti i lunedì dal 10 giugno, adesso dal 10 giugno fino alle 2 settembre. La data extra di Ferragosto sarà quest'anno con Annalisa Minetti e la sua band, dove farà tutte le canzoni, i suoi successi, anche dove ha vinto Sanremo. Lavoriamo anche nella promozione di Piazzale d'Annunzio, che sta diventando un centro sempre più importante per le famiglie, quest'anno avremo anche delle collaborazioni importanti con Coccole Sonore, per quanto riguarda i bambini più piccoli, e faremo sia attività di animazione, sia attività di cinema all'aperto con il cinema d'animazione.